salve bentornati ai tutorial strumentali adesso parleremo di un brano molto famoso composto da nicola piovani per per il film la vita è bella appunto il brano è la vita è bella e adesso vi vi mostrerò un po come si come si suona partiamo subito con un'esecuzione integrale del brano poi andiamo ad analizzare le singole sezioni un'esecuzione integrale del brano poi andiamo ad analizzare le singole un'esecuzione integrale del brano poi andiamo ad analizzare le singole un'esecuzione integrale del brano poi andiamo ad analizzare le singole un'esecuzione integrale del brano poi andiamo ad analizzare le singole bene parte qualche errore qua nel finale perché mi è un po complicato suonare tenendo in mano lo smartphone per fare il video il resto è tutto a posto quindi partiamo subito dalla prima sezione questo brano si struttura secondo tre sezioni la a la b e la a quindi abbiamo una ripetizione della parte espositiva del brano un attimo che ho ok la prima diciamo cellula tematica parte da questa nota è sol sol e questo sol dura cinque quarti sol due tre quattro cinque e mezzo cinque un la si do si la sol due tre quattro cinque sei sette otto do due tre quattro cinque un quindi re mi fa mi re do la dopo aver fatto il do quindi partiamo le dita sono queste i pollici indice medio anulare poi si cambia uguali il do pollice indice medio anulare e poi si scavalca con il la io faccio così re mi fa mi re do la mi fa mi re do faccio questo scavalco con l'indice la si si con il medio la do la do si la sol col pollice la e sole diesis poi di nuovo la si la si la si la sol due tre quattro cinque tre quattro cinque un la si do si la sol due tre quattro cinque sei sette otto do ok in realtà qua non si torna sul do ma la si do si la sol fa mi fa mi re mi re do si do re mi do quindi la seconda volta che ritorno a questa cellula tematica bisogna fare questa piccola discesa sol fa mi fa mi re mi poi io lo vado a prendere col mignolo oppure sol fa mi fa mi re mi si possa semplicemente spostare il il pollice vedete un po come vi trovate più comodi voi in realtà volendo si possono usare anche due mani quindi una fa e l'altra insomma ci sono varie possibilità dipende dal vostro grado di competenza con questo strumento il mio è basso dato che sono un chitarrista ma più o meno mi so arrangiare poi mi re mi re mi fa mi re fa mi quindi mi dura 4 più 1 di pausa 4 4 1 quarto di pausa 2 3 4 1 re mi fa mi re fa mi con indice medio anulare poi re mi fa mi re do si la do la si la sol diesis si la qua io ho suonata qua io ho suonata qua io ho suonata qua io ho suonato sol diesis con l'indice ok? va bene anche così poi di nuovo mi re mi fa mi re fa mi quindi partiamo con l'indice re mi fa mi re do si la do la si do re do si può essere fatto anche diversamente con il medio forse questo è meglio quindi mi medio qua ok? poi sol la si do si la sol quindi uguale a prima e si ripete la prima parte bene il brano è tutto qua se avete domande chiedete pure a presto arrivederci ciao